è stanco lui, è stanco si è finito a questa cosa di fatto in quest'anno sono arrivati certissimi anche i signori del Caracondino sono arrivati certissimi di fatto abbiamo dovuto distribuire i toni i toni fissi e le vali si sono arrivati a fare per fare solo i toni fissi in questo modo in questo modo ecco la tua una un bel bagno alla piazza eeeh attirati